Ciao a tutti, mi chiamo Rebecca e in questo momento sono in Svizzera a fare la vendemmia, quindi mi vedete in un modo un po' contadino. Io già le è a live in Milano, sono il fondatore e il manager di un NGO che si chiama Recoup. Riecoviamo e distribuisciamo i prodotti di alimentazione nei mercati locali, combattendo contro la scuola di alimentazione, la scuola sociale e creando collaborazioni tra persone di diversa età, etnicità e stati social. Io ho trovato un po' un compromis tra la mia passion per il viaggio e il fatto che devo restare a Milano per gestire l'associazione. In realtà, ogni anno, io parto in viaggio lavorando. Io faccio le vendange, le cuore dei fri, ma sono anche danse con il cercello, o la hop e con il feo. Io participo a un festival e faccio l'art di ruolo. Io sono gruppo leader per gli interiore e studiando facili per comprendere e per gestire le progetti che si passano tra gli individui in un gruppo. Questo funziona sia per le associazioni, le interiore, ma anche per un viaggio organizzato con WeRoad, per esempio. In ogni caso, tutto ciò che ho fatto, lo faccio per passione e con motivazione e determinazione. Il viaggio più lindo che ho fatto fu in Francia facendo dedo, autostop, fu anche il più pericoloso. Però mi ha dato molto a pensare nel tema della confianza. Perché quando due persone non si conoscono e ho avuto viaggiare insieme, ho avuto lavorare con l'istinto e anche con la ragione. Io sono un on-the-road-traveller, quindi direi che il problema che mi ha dato, come il problema che mi ha dato, è che, come il problema che mi ha dato, è un problema che mi ha dato. E per risolvere, io direi che il mio motto è sempre un plan B, perché il plan A è quello che stai vivendo in quel momento. Quindi, se il progetto non exista, potrebbe poter guardare anche altri attraggiandoli avanti al progetto. Facciamo una bella baronina dove andare, un pub, un museo, per esempio. E' per esempio, ciò avuto un gruppo lì, poi potrei farmi trovare un progetto delle progetti più locale, una bella baronina a fare. Anche se, quindi, la gruppo piaccia vuole a stare. Io penso che se la gruppo già creata buone buose relazioni, magari potremo farvi un problema così. Perché a volte succede. Spero di te che allora ho provato di avere il conto di rinforzare. Grazie a tutti per avermi ascoltato e per aver visto questo video. E come ultima cosa voglio dirvi che sì, in Svizzera il cioccolato è buono. Ma se non avete mai assaggiato il vino, fatelo. Spero a presto. Ancora ciao.